Siamo a Campello di Gorno, quella che era la capitale delle miniere di piombo e zingo di tutta la Bergamasca, in quanto qua c'era la direzione di tutte le miniere che partivano da Parre e arrivavano oltre Colle d'Ossena. Questo villaggio è stato costruito a fine o verso la fine dell'Ottocento, quando c'erano gli inglesi, la The English Crown Spelter, come società concessionaria delle miniere, dove hanno costruito, oltre che gli uffici, hanno costruito anche gli spacci, i ritrovi degli operai, eccetera. Dicevo appunto della Spelter, poi nel dopoguerra, prima guerra mondiale, nel 1920, alla Spelter subentra via in montagna una società belga che poi ripristina o comunque amplia il villaggio di Campello, dove si spoggeva appunto tutta l'attività relativa alle miniere e durante, in modo particolare, a fine mese, i fini mesi, fine mese, dove gli operai convenivano qua per ritirare la paga. Era, diciamo così, una vita piuttosto movimentata, mentre adesso sta morendo e sta crollando, anche perché dopo la rinuncia della concessione mineraria avvenuta nel 1982, purtroppo anche le amministrazioni locali per una ventina d'anni non si sono interessati di questo luogo, per cui è subentrata nella proprietà e nella gestione dei fabbricati l'Agenzia De Magnale, che anche questa non ha mai fatto niente per tenere in piedi, diciamo, non fare interventi straordinari, ma almeno tenere in piedi i fabbricati, per cui ora stanno crollando. Ed è un peccato perché è l'unico villaggio minerario esistente in Lombardia che andrebbe salvaguardato. È necessario che i comuni si mettano assieme per fare interventi anche nei confronti della regione Lombardia, perché è un bene che non deve essere sprecato. È una testimonianza del lavoro dei nostri avi, e una testimonianza dell'attività mineraria e industriale della nostra zona, diciamo così, anche della Bergamasca, in quanto, appunto, come ho detto prima, è l'unico villaggio minerario esistente.